segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cosa potrebbe cambiare una commissione parlamentare in chiesa secondo me potrebbe essere importante per affrontare alcune situazioni che sono state importanti all'interno di questa storia uno per esempio è una famosa cassetta arrivato al 17 luglio con dei ramenti delle torture sono sei anni che cerco quella che l'audio cassetta con la tecnologia di oggi sicuramente si potrebbero tirare fuori cose molto importanti voci maschili che all'epoca sono state tolte la cassetta è stata manipolata dagli apparati e lo stato a voi dissero è una ripresa di un film porno a noi dissero due giorni dopo a mio padre disse tranquilli perché è un spessore di un film porno e manuela non c'entra niente invece ho visto i documenti degli analisti del sismi che hanno analizzato quei giorni stessi la cassetta e per loro quella era la voce di manuela questa cassetta è scomparsa non si trova da nessuna parte potrebbe stare in questura e qui potrebbe intervenire appunto la commissione parlamentare che può avere accesso e poi c'è l'apertura di un filone che è sempre stato tenuto nel non detto quello della pedofilia non è stata mai indagata questa strada della pedofilia interna al vaticano anche perché il vaticano non ha mai dato nessun tipo di collaborazione tutte le locatorie sono state respinte però secondo me è una strada che bisognerebbe percorrere soprattutto in questo momento perché uscito in questi giorni un audio rubato da un ex componente della magliana molto vicino ai servizi e fa che racconta delle cose molto molto pesanti sulla pedofilia e su giovanni valo secondo bisogna dirlo quello una commissione parlamentare d'inchiesta può chiamare questa persona sia marcello neroni lo convoca e lo interroga ci sono cose concrete che potrebbe fare l'inchiesta andrea purgatori